Alla fine il prescelto per la difesa è Mohamed Zimakan, giocatore dello Strasburgo classe 2000 che ha convinto dopo le numerose relazioni, è arrivata il capo scout Gofrimon Kadà, che ha segnalato il giocatore a Paolo Maldini, a Fredrik Massara, ad Evan Gazzidis e tutta la dirigenza è rimasta soddisfatta da queste relazioni. Un giocatore fisico, un giocatore veloce, un giocatore molto abile tecnicamente, molto forte di testa e un giocatore che già dal tempo è nel mirino del Milan. Se vi ricordate nell'ultimo giorno di calciomercato il Milan aveva già mandato un aereo per prendere Zimakan, ma lo Strasburgo si era opposto. Ora la situazione è cambiata, ora lo Strasburgo è aperto visto il giocatore che ha espresso il desiderio, il piacere di venire a giocare in rosso-nero. È chiaro che quando sei un difensore e ti chiama Paolo Maldini le emozioni salgono e soprattutto convincere un difensore come Paolo Maldini riesce a convincere grazie al suo carisma, grazie al suo blasone, grazie alla sua storia, un altro difensore a venire in rosso-nero. Un po' come era successo con Teo Hernandez, il Milan si è convinto, il Milan punterà su Zimakan, destinerà 15 milioni di euro e quindi il difensore che andrà a completare il reparto sarà Zimakan. Ma come evolverà la difesa rosso-nero? Verrà ceduto Musacchio con sei mesi anticipo e andrà al Genua? Dovrebbe partire anche il Leo Duarte e il Milan completerà la difesa con Kier, Romagnoli, Gabbia, Calulu e proprio Zimakan. Un giocatore fisico, un difensore moderno, un giocatore molto abile nell'uno contro uno, un giocatore che sa giocare con la difesa alta, un po' con la filosofia, la voglia di attaccare sempre della squadra di Pioli. Gazzini se l'ha sempre detto, vogliamo giocare un calcio progressista, un calcio moderno, un calcio dinamico, un calcio allegro. Ecco, un difensore come Zimakan, molto abile nell'uno contro uno, è il profilo ideale per il Milan, un posto ideale per un giovane dove crescere e dove dare il meglio di sé. Zimakan arriverà prestissimo a Milano e già a metà gennaio potrebbe essere ufficializzato, secondo nostre fonti, dal Milan. E come sempre, se vi è piaciuta questa breaking news, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerla e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera. Ciao a tutti, buona serata e forza Milan! Grazie!